Sulle immagini di Chiaravalle Torres Maria, il commento di una giornata di campionato importante per la testa della classifica. Cominciamo col dire che la Torres espugna il foresta di Chiaravalle, grazie ad una rete, quanto basta la capolista per mantenere la vetta a 47 punti. Dietro in calza l'Ambrosiana, quota 43, con una gara da recuperare, è in piena corsa per la testa della classifica, in vista anche dello scontro diretto casalingo proprio con la capolista domenica prossima. Vince il Real Gasperino sullo Sporting a Tanzaro 6-3. Altro risultato tennistico sul campo del San Francesco, 0-6 dell'Audax. L'Olicentro compie una vera e propria impresa sul campo di una delle favorite del gironi, l'Aranceto, 3-2 per la squadra dei tre comuni, che frena la corsa alla zona spareggi per la formazione catanzarese. Torniamo prima alla big match della giornata. Il gol di Luca Azzarito arriva alla 42esimo, con la stoccata dal limite davvero molto bella, che non nasce a scampo all'estremo difensore Costa del Chiaravalle. Partita anche nervosa nel secondo tempo, con una rissa durata circa 10 minuti, dove parte anche qualche colpo proibito all'altezza delle panchine, col coinvolgimento di diversi giocatori e dirigenti delle due squadre. Insomma, un derby davvero sentito, anche sin troppo, con buona partecipazione sulla tribuna, rimasta a guardare in maniera comunque tranquilla quanto accaduto. Ancora per la cronaca, il Chiaravalle sfiora nel finale il pareggio, trovando però il palo con Posca. È stata invece sospesa Real Gasperina-Montauro per un infortunio di gioco a corsa a Pantaleone-Stratotti, in uno scontro fortuito. Il calciatore montaurese è andato di testa sul rinvio di un calciatore gasperinese, impattando però col volto il piede dell'avversario. Momenti di panico per il calciatore del Montauro, rimasto a terra, per il quale, come si vede dalle nostre immagini, è dovuto intervenire l'eli-soccorso. In serata sono state comunque positive le notizie sulle condizioni di Stratotti, che ha evidentemente risentito del colpo al setto nasale, al quale rivolgiamo il nostro augurio di pronta guarigione.